Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di RockPolitik. In questa nuova puntata abbiamo cambiato format e abbiamo chiesto al segretario del circolo PD alto canavese, Simone Appino, di concederci una chiacchierata e di parlare degli eventi che sono successi questa settimana, oltre al famigerato coronavirus, di parlare anche degli atti vandalici che hanno colpito la vostra sede che unisce appunto il circolo di Rivarolo, Castellamonte, Cornier e di Lanzo, se non sbaglio. Valle Sacra. Questi atti vandalici appunto che vi hanno colpito rappresentano un po' diciamo la politica italiana in questo momento, cioè l'alta polarizzazione. Intanto ti ringrazio per l'invito in questa splendida location oltretutto, inauguriamo una primavera forse un po' particolare che comunque ci piace qui nel nostro canavese. Allora, parliamo di questi fatti che sono successi, che ci hanno portato ovviamente un po' di subbuglio, però io non starei a generalizzare troppo. Certo, dobbiamo assolutamente condannarli questi eventi da chiunque siano stati fatti, però cercherei di di rimanere un pochino con i piedi per terra. La situazione ovviamente non è stata piacevole, però abbiamo già rimesso in moto la nostra sede e torniamo a fare quello che facciamo tutti i giorni. Li condanniamo, ma non per questo ci fermiamo e non per questo vogliamo pensare magari a fatti strani, a cose particolari. Condanniamolo così, fermiamoci e ripartiamo pieni di grinta, come siamo abituati a fare. Sì, volevo anche analizzare questo fatto, in quanto non è la prima volta che succede in canavese un'aggressione verso le sedi, come è capitato anche a Fratelli d'Italia, la sede di Fratelli d'Italia. E vorrei capire come mai in canavese, un posto che apparentemente sembra molto tranquillo, con gente che ha capito pieno la democrazia italiana, diciamo. Come mai capitano questi eventi? Guarda, mi piacerebbe tanto saperlo, mi piacerebbe capire cosa passa nella testa di certe persone, di certi ragazzi, questo purtroppo non lo possiamo sapere. Io credo che tutti insieme, al di là delle nostre idee politiche, di quello che pensiamo, dobbiamo fare un pochino di autocritica. Abbiamo preso l'abitudine forse a puntare il dito contro gli altri, a crederci migliori, e in questo si innesca un'idea, una brutta idea di politica. Dobbiamo forse tornare un pochino coi piedi per terra e cercare anche di dialogare diversamente con le altre forze politiche. Avere una diversa visione non vuol dire farsi la guerra, vuol dire avere una diversa visione sul territorio dei temi, però si può ragionare insieme e si può portare anche avanti tanti programmi, tante cose utili per il territorio. Sì, volevo anche sapere se per caso con gli amministratori locali, visto che molti fanno parte del PD, tipo Rivarolo per esempio, o già solo a Valperga, comunque sono amministrazioni dichiaratamente del Partito Democratico. Se avete già discusso di questo fatto, se avete preso provvedimenti, se avete avuto già l'occasione di parlarne. Ma guarda, in questi giorni, come ben sai, il coronavirus ha portato un po' di sballottamento e quindi abbiamo preferito non incontrarci, come giusto che sia. Ci siamo ovviamente sentiti, ci siamo trovati uniti. Io devo dirti che al di là del momento critico, del momento in cui anche io ho avuto comunque un po' di affanno, però ho trovato comunque tante persone che ci hanno sostenuto. Non posso dirti i messaggi, le chiamate di sostegno, di solidarietà, oltre che del nostro partito, sul città metropolitana, regionale, addirittura nazionale, ma le persone comuni si sono fatte avanti e questo mi ha dato tanta forza di ricominciare. Quindi sì, ovviamente con gli amministratori ne parleremo, ne parleremo ancora, ma sono talmente tanti i temi che dobbiamo affrontare in questo canavese che io direi sì, ne parliamo un attimo, ma poi proseguiamo. Forse una causa può essere anche la disinformazione e l'ignoranza che molti giovani purtroppo hanno verso questo mondo della politica. Il mondo dei social magari influisce negativamente, in quanto gente di estrema destra utilizza in maniera efficace i social per manipolare i giovani e le persone. Ma allora ci sono tanti fattori, poi come dici tu, i giovani seguono ovviamente più i social, forse meno i giornali, si seguono meno i telegiornali. Però io voglio anche dire una cosa, la destra sa come farsi ascoltare, come arrivare ai ragazzi, però non puntiamo sempre il dito verso di loro, ma cerchiamo anche di migliorarci noi. Perché noi non siamo più in grado di confrontarci con i giovani? Perché i giovani preferiscono magari seguire un messaggio, uno slogan e non andare dietro i nostri ragionamenti? Siamo noi che dobbiamo rapportarci con loro e imparare a farlo. Ti dico che io in questi due mesi, due mesi e mezzo in cui ricopro questo ruolo molto piccolo, tra l'altro di segretario di circolo, però ho imparato tante cose e ho imparato di nuovo a rapportarmi con il mondo giovanile. Abbiamo la fortuna di avere un circolo con tre generazioni di persone e tante volte mi rapporto con i più giovani e capisco che il mondo è un'altra cosa, va molto più velocemente, si va per segnali e forse non si ha più la pazienza di ascoltare magari dei discorsi più lunghi. Quindi siamo noi che dobbiamo migliorarci e aver di nuovo voglia di parlare con i giovani, ma adesso abbiamo cominciato in questi mesi e il discorso è un pochino lungo perché sai, un circolo piccolo, unirne quattro è un'altra cosa, anche noi abbiamo dovuto imparare a conoscerci ed amalgamare le nostre differenze, però nei mesi a venire sicuramente seguiremo anche l'idea di uscire dal circolo, di andare nelle piazze a parlare con le persone, perché è questo che un partito, soprattutto un partito come quello democratico, deve fare. Sì, esatto, grazie. Nei miei ultimi articoli ho parlato anche del canavese, l'ultimo articolo l'ho scelto un titolo molto provocatorio, dicendo che il canavese è un paese di vecchi ormai. Aiuto. Ho parlato appunto dei vari settori, settore primario, settore secondario e settore terziario, che secondo me stiamo assistendo negli ultimi anni a una terzializzazione del canavese, se correga se sbaglio, secondo lei. Secondo me il settore primario e settore secondario stanno andando molto a decadere piano piano in quanto infrastrutture, secondo me non sono all'altezza per sostenere anche i grandi fondi che l'Unione Europea dà per il settore primario. Poi ho parlato del settore secondario in quanto è sempre stato il fulcro dell'economia canavesana, le industrie, le varie industrie e stiamo assistendo a una precarietà lavorativa nelle nostre industrie molto alta. E poi ho anche parlato del fatto che nel settore terziario ci stiamo concentrando magari troppo su un settore commerciale senza puntare magari a un, non so, energia e sviluppo sostenibile o magari un settore dell'informatica che è stato anche questo, un settore molto importante, per esempio Olivetti. E secondo lei come si può cercare di fermare questa terzializzazione e cercare di trovare di nuovo un equilibrio tra i vari settori per cercare di avere un'economia molto più equilibrata? Allora guarda, io ho molta fiducia nel canavese e sì, ti posso dare ragione, ma non mi baserei più di tanto, perché è vero che magari facciamo fatica a arrivare ai fondi, però il canavese è una terra molto forte di gente che ha costruito delle grandissime cose. Pensiamo alle piccole boite che una volta c'erano da arrivare a forno e si scendeva giù fino a Quornien, la maniera in cui sono riuscita a crescere, a crescere come industrie e poi sì, tu parli del primario, ma l'agricoltura è vero, tante volte fa fatica a reperire i fondi, però non lamentiamoci più di tanto, abbiamo un'agricoltura comunque forte, ovviamente non possiamo basare l'agricoltura del nostro canavese con quella magari del cuneese, perché siamo verso la montagna, è un altro tipo, ci sono aziende molto più piccole, però io ho molta fiducia sui canavesani e quello che sono in grado di fare, quindi sicuramente, come dici tu, la politica deve capire le esigenze, deve portare queste esigenze, questi problemi, soprattutto in regione e anche a Roma, perché abbiamo dei rappresentanti e noi come circolo dobbiamo essere un po' l'anello che segue il territorio e che collega sia la regione e sia il Parlamento, però ci sono anche delle buone opportunità e poi basta vedere come sei tu, che sei un giovane, voglio dire, dobbiamo anche avere fiducia in voi giovani, voglio dire, siete il nostro asso nella manica. Invece, secondo lei è perseguibile un percorso, un progetto su energie innovative per il futuro in questa zona, in questo territorio? Ma allora, adesso parte questo momento che le priorità sono cambiate e dobbiamo avere la pazienza di aspettare e anche il buon senso di seguire le regole, però siamo un territorio che ha voglia di crescere, un territorio che sta scoprendo il turismo. Noi per tanti anni siamo stati collegati all'olivetti, alla grande industria, poi dopo il momento di crisi abbiamo capito che dovevamo reinventarci e quindi il turismo può essere un asso nella manica perché basta girarci attorno, vedi oggi dove siamo, i posti sono stupendi, sono bellissimi, oltretutto le nostre montagne sono una peculiarità che molti ci invidiano e quindi io partirei appunto da queste cose e sul fatto poi, come dicevi tu, dell'energia e delle nuove possibilità che si offrono, ma per carità dobbiamo lavorare tutti insieme e avere anche l'umiltà per farlo. Ok, adesso cambierei un po' tema, visto che domani è la festa delle donne e lei è un esempio appunto di una donna che è entrata in politica e è diventata segretaria del nostro circolo diciamo canavesano, non totalmente, alto canavese. Alto canavese. Ecco, lei come vede questo percorso, progetto, processo per cui le donne stanno entrando piano piano sempre di più in politica, l'abbiamo notato soprattutto negli ultimi anni, grazie anche al Partito Democratico, con Matteo Renzi, l'Equote Rosa, siamo a buon punto secondo lei, se bisogna fare ancora tanto, non so, come si sente in questo mondo in questi due mesi di lavoro? Allora, un'altra domanda, ce l'abbiamo? No, allora, io mi sono sempre rapportata con le associazioni, col mondo esterno, perché sono una persona curiosa e mi piace imparare e soprattutto lavorare per il nostro territorio. il mondo delle donne è purtroppo in difficoltà, perché una donna non è soltanto una lavoratrice, ma prima di tutto, nel massimo delle volte, è una mamma e una moglie, quindi il suo percorso è assai difficile e quindi io sicuramente lo so che il percorso è lungo e difficile, certe volte magari ci abbattiamo anche, però diciamo che un pezzettino alla volta possiamo farcela, le donne hanno tante qualità, ci sono anche delle buone occasioni adesso, pian pianino ci sono anche dei percorsi che possono affrontare, l'importante è lavorare tutti insieme e soprattutto e certe volte anche imparare un pochino a sostenerci tra noi donne, non sempre lo facciamo e questo secondo me farà la differenza, speriamo. Poi l'ultima domanda inevitabile sul coronavirus, notizia di poco tempo fa, appunto il contagio del vostro segretario del Partito Democratico, Luca Zingaretti, e come stiamo affrontando la situazione in Canavese? Perché io ho notato nelle scorse settimane, finché si parlava di coronavirus a livello nazionale, qua in Canavese non c'era tanto allarmismo, ma i primi casi a Chivasso, a Cornier, hanno creato un allarmismo quasi esagerato nelle nostre zone, a detta mia, poi magari sbaglio. Come lo stiamo affrontando secondo lei? Ci possono essere danni enormi per le economie locali? Ovviamente è una situazione nuova a cui nessuno siamo preparati, quindi secondo me la strada migliore è quella del buonsenso, dobbiamo seguire le regole che ci hanno detto. Speriamo tutti insieme di riuscire a superare questo momento, sicuramente lo supereremo, bisogna solo avere la pazienza e anche l'umiltà di fermarsi un attimino, di seguire i consigli, ma io mi auguro che saremo pronti poi a ripartire. L'importante è poi nel momento in cui questa malattia lascerà i nostri territori, essere poi capaci a fare squadra e rimettersi in piedi, perché il territorio ovviamente ne sta patendo, ci mancherebbe e quindi speriamo veramente... Sì, anche perché molte imprese sono legate anche all'estero con altre imprese cinesi, per esempio. Ovviamente, perché lavoriamo nel mondo ed è giusto così. Nel locale abbiamo molte multinazionali. Assolutamente sì, speriamo passi presto. Secondo lei il sistema sanitario canavesano può riuscire a controllare una pandemia? Guarda, io non sono ovviamente un'esperta, come tutti, sono una mamma. Dico proprio le strutture sanitarie, gli ospedali. Ma allora abbiamo delle strutture d'eccellenza, soprattutto sul torinese, quello che sicuramente dobbiamo cercare di non fare è intasare poi gli ospedali, quindi è proprio per questo che ci è venuto a chiedere di rimanere il più possibile a casa o distanti magari dalle altre persone per non creare poi veramente dei problemi. Però voglio dire, siamo abituati tutti a correre, siamo abituati tutti a fare, abbiamo avuto sempre una grande libertà di spostarci. In questi giorni certo fatichiamo un pochino e poi la paura è anche comprensibile, la paura è nell'animo umano, siamo tutti genitori, abbiamo dei genitori anziani e quindi è anche capibile. Però diciamo che il buonsenso è un minimo anche di... Poi dobbiamo anche avere fiducia comunque nella nostra medicina, negli operatori, appunto, nel governo. Ma e poi in questo momento secondo me la cosa più importante è oltre a non trasgredire le regole anche avere rispetto di chi ci governa, anche se per noi è un'idea diversa, penso soltanto in regione. Io ho diverse... ho ovviamente un'altra idea diversa, però rispetto quello che mi viene detto e faccio di conseguenza e spero che anche gli altri facciano così. L'importante è rimanere uniti e non farci la guerra. Ovviamente sì, il canavese ha passato grande in momenti di crisi, ci sono state epidemie, ci sono state guerre, siamo sempre risorti e più forti di prima e quindi forse coraggio dobbiamo assolutamente farcela. Con questo inno, allora con questa frase vorrei chiudere l'intervista e la ringrazio appunto per avermi concesso questa chiacchierata. Ma grazie a te e tanti auguri. Grazie.